Mancava solo la firma, per oggi è stata confermata anche ufficialmente la panchina. Emiliano Testini resta al timone delle ragazze a Maranto. La Rezzo Calcio Femminile ha infatti annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto dell'allenatore della prima squadra per la stagione 2022-2023. Mr. Testini è reduce da una stagione indimenticabile che ha visto la Rezzo Calcio Femminile vincere il campionato di Serie C senza mai perdere una partita. Con le sue ragazze imbattibili nella stagione 2021-2022 ha conquistato la Serie B, con il merito di essere stata l'unica formazione tra le 174 di Serie A, B e C maschili e femminili a non aver mai perso in campionato. Il primo mattoncino, dunque, della prima stagione in Serie B della storia dell'Arezzo Calcio Femminile è stato messo. A breve sarà presentata anche la Rosa. Della Rosa presente l'anno scorso, quante ne sono rimaste? Circa un 50%. Adesso inizieremo a rappresentare a tutta la città la squadra, la Rosa. Abbiamo fatto un grande lavoro. La Serie B richiede tutta una serie di considerazioni molto importanti che sono state fatte e diciamo che siamo convinti che anche quest'anno ci possiamo togliere delle buone soddisfazioni. Abbiamo diversi profili ancora da ultimare come trattativa, però sì, alla fine una decina di profili. Nei prossimi giorni, infine, le ragazze a Amaranto partiranno per il ritiro. La squadra sarà dal 22 in ritiro e a Chitignano come anno scorso a partire dal 24 di questo mese, quindi tra pochi giorni.